Scordarsi la tintarella, almeno per il momento alle spiagge si può accedere soltanto per due ragioni, la pesca e gli sport acquatici. Sabato scorso l'ordinanza del presidente della regione Christian Solinas ha spazzato via ogni dubbio. Off limits le passeggiate sull'arenile e vietati i bagni. La spiaggia, secondo le disposizioni del governatore, funge esclusivamente da transito per atleti, professionisti e non, moniti di tavole da surf o simili. E ieri non pochi si sono cimentati nel cavalcare le onde ingrossate dal libeccio, in una giornata dove il sole peraltro si è visto poco. Più ampia la platea di tutti coloro che hanno scelto di adeguarsi ai provvedimenti del governatore nel campo della pesca. Amatoriale e ricreativa, queste le due definizioni riportate dalla nota esplicativa regionale che, tra l'altro, specificava come l'esercizio della pesca, sia subacquea da terra o lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto, può essere praticata in forma individuale con divieto di assembramento e obbligo di distanza personale. Tranne nel caso della pesca subacquea, che si può fare in due, anche se di preferenza si specifica nel testo con un familiare convivente. Le attività sono consentite nell'ambito del territorio regionale e presentano altre eccezioni alla regola del distanziamento sociale. Ad esempio, su unità da diporto superiori a 6 metri, è permessa la contemporanea presenza a bordo di uno o più familiari conviventi. Grazie.